Anche quest'anno, nel giorno della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono e protettore della Polizia di Stato, che ricorre il 29 settembre, è stata celebrata una santa messa nella Chiesa del Cristo di Pordenone. La solenne celebrazione eucaristica è stata ufficiata dal Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini, alla presenza delle più alte autorità civili e militari locali, dei rappresentanti della Polizia di Stato, della cittadinanza e del Sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Queste sono giornate che, va bene, sono delle date importanti durante l'anno, ma in realtà sono anche momenti di riflessione. Come amministrazione si sa, abbiamo una collaborazione stretta e continua con le forze di Polizia, non possiamo fare a meno però di sottolineare che periodacci anche la Polizia stia passando, con questa scarsezza di mezzi che a volte rende difficile di operare in prima linea con quella professionalità e quel servizio che loro sarebbero in grado di dare, ma a volte sono limitati da cose banali come mancanza di benzina o scarsezza di personale durante le ore serali. È per questo che bisogna lavorare con patti uniti per comunque garantire alla città quello che la città chiede. Durante la cerimonia sono stati ricordati i dipendenti della Polizia di Stato caduti in servizio e vittime del dovere che hanno prestato servizio in uffici della provincia. Oggi San Michele Arcangelo in tutta Italia si celebra la festa di San Michele che è il nostro padrono. È un momento d'incontro con le varie istituzioni delle città, con i cittadini e anche un momento d'incontro fra di noi, fra i poliziotti, i familiari e quindi è qualcosa che per noi è abbastanza gradevole.